La Procura Generale di Perugia, diretta da Sergio Sottani, ha impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'Appello che il 9 giugno scorso ha assolto perché il fatto non sussiste tutti gli imputati accusati di sequestro di persona in relazione all'espulsione di Alma Shalavaieva, moglie del dissidente casaco Mukhtar Ablazov, insieme alla figlia Mino Renne, tra loro Renato Cortese e Maurizio Improta. La Procura Generale contesta la decisione assolutoria in quanto la sentenza appare iniziata per aver dichiarato innocenti gli imputati senza procedere al riascolto di testimoni d'accusa ritenuti tutti inattendibili. La decisione di impugnare la sentenza in Cassazione, comunica lo stesso procuratore, è stata annunciata dalla stessa Procura Generale di Perugia, guidata appunto da Sergio Sottani, attraverso un comunicato ufficiale. Il provvedimento riguarda la sentenza per la quale le motivazioni sono state depositate lo scorso 15 marzo e che aveva riformato la precedente decisione di condannare gli imputati adottata dal Tribunale di Perugia il 14 ottobre del 2020. La decisione della Corte d'Appello, presa in difformità delle richieste formulate dall'accusa in udienza, sottolinea la Procura Generale, ha escluso che nella vicenda siano stati commessi reati da parte dei dirigenti e dei funzionari della Questura di Roma. Nelle 44 pagine dell'atto di impugnazione, l'ufficio spiega che non avendo riascoltato i testimoni di accusa, ritenuti tutti inattendibili, la Corte d'Appello Perugina è venuta meno all'obbligo di fornire una motivazione rafforzata a sostegno della sua decisione assolutoria, obbligo che non può certo ritenersi soddisfatto, sottolinea la Procura Generale, con il ricorso reiterato, così come fanno nella sentenza della Corte d'Appello, a domande retoriche non sorrette da rigoroso riscontro con le risultanze processuali. Secondo Sottani, inoltre, il giudice del secondo grado, con la sua lunga ed articolata motivazione, demolisce la sentenza di primo grado, con l'uso a volte di espressioni che vorrebbero forse essere ironiche ma che rischiano di apparire inutilmente sarcastiche e in alcuni casi possono essere percepite come manifestazioni di dileggio nei confronti dell'accusa e del giudizio di primo grado, ma non fornisce plausibili letture alternative ai tanti e troppi abusi consumati ai danni di Alma Shalabaieva e della figlia minorenne. Abusi reiterati, si sostiene ancora nella notte fermata da Sottani, che nella sentenza di appello vengono qualificati al massimo come violazione di prassi.